Ciao a tutti, in questo video facciamo una comparazione tra le due principali famiglie di distribuzioni Linux. La prima è quella di Debian barra Ubuntu e l'altra è quella di Arc Linux barra Manjaro. Ovviamente non mi fermerò sugli aspetti grafici perché gli stessi ambienti grafici e le stesse configurazioni le potete configurare su entrambe le distribuzioni e ovviamente quando parlo di famiglie mi rivolgo anche a tutte le altre distribuzioni derivate, per esempio Linux Mint, PopOS eccetera in realtà si basano sulla base di Ubuntu, quindi quando parlo di Debian Ubuntu intendo anche questo tipo di distribuzioni. Ma prima di iniziare io sono Luigi, questo è il canale Te Consapevole dove parliamo di tecnologia e qui ti puoi iscrivere al mio canale Telegram per non perdere gli aggiornamenti e parliamo anche di criptovalute e questo è il canale Telegram dedicato alle criptovalute. Ti puoi iscrivere ai miei video cliccando su iscriviti e attivando le campanellina non perderai i miei nuovi video e se ti piacciono i miei contenuti ti consiglio anche di dare uno sguardo alla Te Consapevole Academy dove carico anche molti altri contenuti extra. Ok, la situazione è un po' questa, ci sono diverse informazioni che si possono dire su queste famiglie di distribuzioni e in questo video appunto volevo raccogliere quali erano le differenze principali visto che bene o male tutti i software sono disponibili su tutte le distribuzioni Linux quello che cambia è il modo con il quale vengono appunto distribuiti questi software. Qualcuno si lamenta che questa cosa può causare frammentazione o altri tipi di problemi in effetti è un po' così, però se ci sono diverse strategie per distribuire il software è perché evidentemente ci sono anche diverse esigenze. Allora, la prima differenza, quella che si nota un po' di più è quella che riguarda appunto il Package Manager quindi il software che viene utilizzato per installare i programmi quella che sto utilizzando in questo momento è Mangiaro Linux da questa parte quindi sto usando Mangiaro Linux con GNOME 3.36 però dall'altra parte c'ho anche Ubuntu anzi, scusate, non è Ubuntu ma è KDE su Debian Testing come vedete questa è l'altra distribuzione e ogni tanto vi farò vedere qualcosa ma in realtà sono più differenze concettuali che non differenze diciamo visibili a occhio nudo allora qua info qua sto utilizzando KDE 5.17 che è il KDE che abbiamo su Debian Testing attualmente ok, quindi prima distinzione è il software che viene utilizzato per installare i pacchetti non entrerò nel dettaglio in questo video però appunto i due software funzionano in modo diverso da una parte abbiamo appunto questo comando apt che viene anche utilizzato dalle interfacce grafiche su Debian o su Ubuntu dall'altra parte abbiamo il software Pacman o Pamac ci sono diciamo due versioni di quest'utility e ci permette anche qua di installare il software quindi Pamac come vedete funziona in modo analogo e tra l'altro su Arc Linux barra Mangiaro qui avrei invece KDE 5.19 come versione installabile e che dire sono appunto dettagli nel senso che alla fine della giornata installate gli stessi software su entrambe le distribuzioni quello che cambia sicuramente è la versione e quello che è interessante vedere è le differenze principali quindi brevemente Mangiaro è una specie di Ubuntu che però ha come base Arch Linux e Ubuntu appunto è una delle distribuzioni più conosciute che ha come base Debian l'altra differenza che c'è tra queste distribuzioni è che Mangiaro e Ubuntu modificano diciamo pesantemente più o meno pesantemente i software che vanno a installare nel senso che li personalizzano con dei temi, delle cose e questa cosa invece non accade in Debian barra Arch Linux nel senso sono distribuzioni che vengono definite più vanilla nel senso che non fanno tante configurazioni per quanto riguarda l'utente appunto nel caso di Mangiaro qua c'è appunto un wiki dove che vi dice appunto informazioni che riguardano questa distribuzione ci sono dei rami diversi della distribuzione che sono appunto unstable, testing e stable il ramo unstable è un ramo che appunto importa nel giro di uno o due giorni il software di Arch Linux e poi appunto dopo una serie di controlli questo software poi entra nel ramo stable quindi diciamo che appunto si sincronizza su il software che viene messo su Arch Linux che dire questo tipo di approccio ad alcuni non piace perché diciamo tenendo congelati i pacchetti c'è il rischio che magari alcune modifiche di sicurezza non arrivano immediatamente nella distribuzione di fatto questo diciamo il fatto di congelare i pacchetti per qualche giorno per vedere se effettivamente funzionano bene e poi rilasciarle tutti permette comunque di avere una distribuzione relativamente aggiornata e anche relativamente stabile l'altra grossa differenza è che Arch Linux e Mangiaro appunto adottano questa politica di rolling release quindi significa che il software appena diciamo viene prodotto dallo sviluppatore nel giro di poco viene subito introdotto agli utenti della distribuzione questa cosa invece non accade con Debian oppure con Ubuntu perché Debian Ubuntu anche qua nel caso di Debian abbiamo stable testing e unstable il concetto della parola stabile in questo caso è diverso nel senso che quando noi installiamo una versione di Debian stabile normalmente questa versione di Debian rimarrà sempre con i pacchetti a quelle versioni e questi pacchetti stabili otterranno solo delle modifiche che riguardano la sicurezza quindi non nuove versioni, nuove funzionalità viceversa la versione stabile di Mangiaro vi dà comunque l'ultima versione del software sia che si tratta di modifiche di sicurezza e sia che si tratta di nuove funzionalità questa cosa è una grossa differenza e in alcuni casi d'uso può aver senso una politica in altri casi d'uso può aver senso l'altra politica appunto questo qui è Debian anche qua io sono partito con una versione minimale della testing e sono rimasto sulla testing la cosa che molti non hanno ben a mente è che appunto quando noi andiamo a installare una versione di Debian questi pacchetti non sono veramente diciamo così sperimentali perché prima di arrivare a questo livello di solito sono passati da experimental, unstable e poi testing appunto testing come viene scritto anche qua sarebbe la futura Debian stabile e ci sono alcune persone che utilizzano Debian come rolling release quindi volendo voi potete rimanere sempre sul ramo testing di Debian che comunque ha passato altri diciamo due step prima di arrivare a testing e questa cosa vi dà l'accesso ai software in modo molto più veloce rispetto a Debian stable però è anche vero che si tratta comunque di qualcosa di testing quindi questa distribuzione non ha il massimo della priorità per quanto riguarda gli aggiornamenti di sicurezza e quindi potete considerarla un'alternativa nel contesto desktop anche se personalmente non credo che sia la cosa più saggia da fare perché appunto non è una distribuzione diciamo fatta per l'utente finale comunque è una distribuzione di sviluppo l'altro punto che secondo me è molto interessante è quello della compatibilità nel senso che se voi avete bisogno di software recenti sicuramente Mangiaro o Arc Linux vi danno l'accesso ai software molto più velocemente tuttavia ci sono delle versioni un po' ibride quindi abbiamo Debian stable che è il massimo della stabilità poi abbiamo Ubuntu LTS che è una distribuzione che si aggiorna meno di frequente però questa base viene utilizzata anche da molti altri software e poi abbiamo Ubuntu classica che è quella che si aggiorna ogni sei mesi l'altro punto interessante è quello dei driver proprietari normalmente se il vostro computer dipende da driver proprietari in un modo o nell'altro probabilmente sarete costretti a rimanere agganciati a qualche versione diciamo LTS proprio perché magari alcuni driver proprietari non vengono sempre aggiornati alle ultime versioni delle librerie open source disponibili e quindi anche questa è una questione aperta a seconda del caso in cui abbiate questi tipi di driver probabilmente vi conviene utilizzare Ubuntu LTS come base oppure controllare appunto questo aspetto personalmente a me era successo che un computer volevo aggiornarlo ma aggiornandolo non avrei più avuto i driver Nvidia funzionanti e quindi sono stato costretto da questi driver a rimanere diciamo su una versione vecchia di Linux questa cosa ovviamente non accade se avete dei computer che non dipendono su driver proprietari l'altra cosa che tengo a precisare è che purtroppo Debian non è molto comunicativa però se volete installare Debian su un computer tra virgolette normale è molto probabile che non possiate utilizzare la Debian come data dal sito ma è molto probabile che dobbiate utilizzare Debian non free questo perché come potete immaginare ci sono molti computer che dipendono da driver proprietari soprattutto per quanto riguarda le schede wifi e quindi la Debian normale se voi la installate vi dà degli errori strani però di fatto non funziona con nel senso la potete provare però non avete il wifi e quindi molte persone non riescono a capire perché questa distribuzione non funziona tuttavia se cercate Debian non free trovate appunto sia la versione di testing sia la versione stabile che include i driver proprietari per quanto riguarda le schede di rete le schede wifi e appunto nel mio caso purtroppo ho bisogno di questi firmware e probabilmente questa cosa potrebbe essere spiegata un po' meglio a persone che vanno sul sito Debian perché non è immediata questa cosa secondo me però appunto una volta installata avete veramente una versione di Linux vanilla funzionante super mega testata e quindi se volete avere un sistema stabile sicuramente Debian Stable o Debian Testing sono delle distribuzioni da considerare l'altra cosa che secondo me è molto importante è quella della community diciamo sia la base Debian Ubuntu sia la base Arch Linux Mangiaro c'è tantissima documentazione in giro però secondo me questo aspetto è gestito meglio da Arch Linux se voi cercate Arch Wiki a me non è mai capitato di cercare questo Arch Wiki però quando cerco delle cose diciamo un po' più specifiche spesso mi vengono proposti dei contenuti che vengono appunto da Arch Linux e questi contenuti comunque molto spesso vanno bene anche sulle altre distribuzioni basta diciamo ignorare la parte Pacman perché appunto Pacman è il package manager che è specifico per queste distribuzioni l'altra cosa importante da considerare è che Arch Linux e Mangiaro sono delle distribuzioni diciamo un po' ibride nel senso che normalmente danno i pacchetti in formato binario per poter installare software tuttavia danno anche dei pacchetti in formato sorgente o meglio permettono di installare alle persone i software anche quelli che non sono ancora diciamo mainstream diciamo e in questo caso vi faccio un esempio pratico io avevo bisogno di questo pacchetto OBS B4L2Sync diciamo è un plugin di OBS e questo plugin di OBS come vedete se andate sul sito ufficiale vi dice che ve lo potete compilare su base Debian Ubuntu e di fatto appunto dovete compilarlo quindi non è una cosa particolarmente difficile basta leggere le istruzioni però fa piacere che una distribuzione permette anche di installare i pacchetti in formato sorgente perché rende tutto molto più comodo agevole e anche ordinato visto che non dovete andarla a mettere in qualche cartella particolare e quindi su tramite i repository Aura siete in grado di installare molto altro software che per qualsiasi ragione non è ancora stato pacchettizzato né per Arc Linux e né per Debian per esempio l'altro punto molto importante è quello della stabilità la stabilità appunto può avere significati diversi a seconda del contesto nel caso di Debian e Ubuntu come accenato prima stabilità si intende che un software è maturo e viene solo aggiornato nel caso di problemi di sicurezza nel caso di Mangiaro e Arc Linux stabile significa dare agli utenti l'ultima versione disponibile del software che magari viene dichiarata stabile dallo sviluppatore e questa cosa diciamo ha dei pro e dei contro nel caso di Debian potete pinnare un certo software a una certa versione nel caso delle distribuzioni non fixed ma rolling release questa cosa diciamo è più rischiosa e quindi il mio consiglio è quello di magari utilizzare Mangiaro che controlla ulteriormente i pacchetti prima di darle a disposizione dell'utente e l'altro aspetto da considerare è quello della frequenza degli aggiornamenti in Debian stabile e Ubuntu LTS gli aggiornamenti normalmente sono molto più rari rispetto che le versioni rolling release quindi se avete installato questi sistemi operativi su dei computer che magari hanno una connessione internet lenta o non volete tenerli occupati diciamo per molto tempo ad aggiornare i pacchetti probabilmente ha più senso utilizzare appunto una base Debian Ubuntu di contro utilizzare una base Debian Ubuntu significa che ogni X mesi ogni 6 mesi, ogni anno, ogni 2 anni c'è quel momento in cui dovete aggiornare tutta la base che avete di software alla nuova versione disponibile e quindi aggiornare tutti questi software insieme significa, vuol dire, magari anche perdere 1 o 2 ore per poter fare appunto tutti questi salti di versione in blocco e se volete vedere in che cosa consiste vi consiglio il mio video che ho fatto sull'aggiornamento di Linux Mint da una versione all'altra conclusione allora se sei arrivato fino a questo punto ti invito a mettermi un mi piace e iscriverti al canale e ti invito anche a lasciarmi un commento con la parola segreta che è tartaruga e se vogliamo trarre una conclusione su queste due famiglie di distribuzioni quello che potrei dirti è questo allora se ti interessa fare un computer che è una workstation oppure un server probabilmente le distribuzioni base più indicate sono Ubuntu LTS oppure Debian Stabile proprio perché si aggiornano il minimo possibile e comunque cercano di dare il massimo della stabilità all'utente se invece sei una persona che vuole un sistema desktop che abbia l'ultima versione dei software stabili disponibili il più velocemente possibile probabilmente le distribuzioni più interessanti sono appunto Arc Linux se ti piace smanettare un po' di più oppure Mangiaro se preferisci avere qualcosa di già configurato però appunto questa cosa va a gusti che dire questo è il video che ti consiglio io e questo invece è il video che ti consiglia YouTube ciao a tutti